Buongiorno, sono Andrea Antonelli della concessionaria TX Automobili di Arezzo. Oggi scopriamo insieme i nuovi interni di T-Roc. Partiamo subito con il nuovo pannello dello sportello, con il soft touch, quindi interni completamente nuovi e morbidi, e nuovi tessuti completamente ridisegnati dei sedili. Il nuovo pannello del cruscotto è diventato in soft touch, quindi morbido e piacevole al tatto. Il cruscotto è digitale in tutti gli allestimenti, quindi di serie già a partire dal modello live base. Il nuovo climatizzatore touch, quindi senza più tasti e rotelle. E il nuovo sistema infotainment completamente ridisegnato. Ora non mi resta altro che venire a scoprire la nuova T-Roc. Ci troviamo qua ad Arezzo e potete anche prenotare un test drive presso il nostro sito e i nostri social. Ciao!